Ciao, vi racconto come presentarsi senza una presentazione. La scorsa settimana mi è capitato di raccontare il mio bellissimo lavoro di advisor e networking facendo vedere tramite lo smartphone il nostro video dove in un minuto e 08 racconto cosa facciamo. Poi ho preso l'agenda della settimana precedente e ho a caso raccontato alcuni appuntamenti che avevo avuto. Dopo non più di 10 minuti è stato lui a fermarmi dicendomi guarda ho due problematiche da sottoporti e da ingaggiare quindi il tuo network. Concentrazione, concentrati in azione.